Salute a tutti! Il mio nome è Matteo Prometeo e benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. E calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 12 ottobre 2021 e la frase del giorno è questa. Lasciate che ve la legga. Quando permetti ai giudizi degli altri di diventare più importanti dei tuoi, finisci per cedere il tuo potere. Di Marcia Grad Powers, autrice specializzata in psicologia. La prima cosa che mi fa pensare questa frase è alla New Age, il tuo potere, cedere il tuo potere, i giudizi degli altri. Vabbè, comunque sono d'accordo. Cosa c'è di interessante da dire questa frase rispetto a tutte le altre frasi del calendario filosofico? Che qua non si tratta, per una volta non ti dice di abbandonare il giudizio, ma parla del rapporto fra i giudizi degli altri e i giudizi propri. E non è il giudizio in sé che ti fa perdere potere, è il giudizio degli altri. Se gli altri fanno il tifo per noi, bene. Ma se gli altri non ci sono d'aiuto, sono ostacoli da superare. Giudizi degli altri. Poi va detto che un giudizio può essere positivo, no? Potremmo dare un'importanza, un giudizio positivo degli altri e dargli più importanza rispetto a un giudizio negativo nostro. Ma mi sembra scontato che Marcia Grad Powers non intendesse questo, intendesse giudizio nella sua accezione proprio negativa e con la giudizio nella sua accezione di critica distruttiva, mica critica della ragion pura. E quindi, insomma, finisci per cedere il tuo potere. Ma questo anche perché in che senso finisci per cedere il tuo potere? Praticamente poesia, che cosa voleva dire qua? Vabbè, dobbiamo interpretare, però che cosa voleva dire? Secondo me voleva dire semplicemente che ognuno di noi vive all'interno della propria bolla di realtà. E in fondo la cosa, ecco, la propria bolla di realtà va vissuta con consapevolezza. A quel punto, a quel punto, i propri giudizi, per quanto possono essere soggettivi, per quanto la verità possa diventare relativa, ecco, per quanto questo, ecco, a quel punto, quando la propria bolla di verità relativa viene vissuta con consapevolezza, ecco, in quel momento abbiamo il potere sulla realtà, sulla realtà esterna. Perché quando si inizia a diventare consapevoli di questa bolla che ci circonda? Innanzitutto diventiamo un po' tutti filosofi della conoscenza e capiamo che effettivamente nessuno sa niente e per conoscere, per fare esperienza, dobbiamo tutti affrontare un'avventura alla fine della quale il tesoro è appunto la verità, la conoscenza di qualcosa di vero. E quindi ecco, magari qualcuno ci viene subito, all'inizio del percorso, ci viene incontro, in modo positivo, e ci dice la verità. Ci dà un giudizio su di noi o un giudizio su un qualcosa e ci dice la verità. Che è la verità? Ma noi ancora non lo sappiamo, dobbiamo affrontare tutto il percorso. È una persona che comunque si ferma, ascolta e dà fiducia all'altro. E diceva, vabbè, è inutile, mi metto in cerca della verità, questo qua sicuramente mi sta dicendo qualcosa di vero. E allora mi fido. Eh sì, ti fidi, ti fidi. Non fai quel percorso di conoscenza, quel percorso fisico, no? Di cammino, di movimento che ti porta magari in biblioteca. Che cacchio ci va mai in biblioteca? Luoghi misti, le biblioteche non sono mai, non esistono. Le biblioteche. Però un tempo si sarebbe andato in biblioteca, diciamo che al massimo adesso ci si muove, si arriva a un terminale di Google e si googla. Devo andarci in biblioteca, non fate in biblioteca tutta la vita praticamente. Cioè, vabbè, andavo nelle biblioteche universitarie, però c'è quella, la biblioteca comunale. Ma che cacchio sa cosa è una biblioteca comunale? Chi va? No, ma sai, per passarmi il tempo vado in biblioteca. Cioè, c'è gente che per passarci il tempo va effettivamente in palestra, nonostante le chiusuranze adesso, cioè, si va in palestra, però... No, c'è gente, io mai mi immagino... Devo farlo? Devo andare in biblioteca così per vedere se hanno certi libri, in biblioteca... Oddio, scusate, che stiamo parlando? Sì, insomma, finisce per cercare il tuo potere, ma andiamo, Marzia Kraspaus, ma che frasi sono? Sì, insomma, la bolla di verità, ecco, fondamentalmente anche se incontriamo uno che ci dice qualcosa di vero, se iniziamo un percorso, che magari ci porta in biblioteca... Se iniziamo un percorso che ci porta a scoprire libri, ad affrontare pratiche... La biblioteca, chissà se esistono ancora le biblioteche. Comunque, insomma, sì, dicevo, poi c'è questo percorso e magari, appunto, vabbè, chi non si affida all'altro si deve affidare alla propria esperienza, ma se tu questa tua esperienza non la fai, come puoi dire che hai in te la conoscenza, no? Quindi, ecco, la conoscenza vera è figlia sempre dell'esperienza. Per quanto poi certe informazioni si trovano in un libro, che magari abbiamo trovato in biblioteca, comunque abbiamo fatto esperienza del libro. Ho fatto uno psicocrimine, un video sul rapporto fra conoscenza ed esperienza, andatevelo a trovare, a vedere, per comprendere la differenza che c'è fra la conoscenza e l'esperienza. Però, ecco quello che mi premeva dire, che non bisogna avere fede negli altri al punto tale da scadere nell'immobilismo. Bisogna muoversi, intraprendere un cammino di conoscenza, che sia proi conoscenza tecnica o spirituale, no? Perché ad affidarsi agli altri, anche quando dicono la verità, non si produce esperienza. E allora non ci si evolve, si resta a livello uno, non ci si muove. E quindi, sì, insomma, i giudizi. I giudizi possono essere positivi, tanto male non affidarsi ai giudizi e restare comunque, non dico scettici, perché bisogna anche sviluppare un certo senso empatico. Però l'empatia, alla fine, il limite dell'empatia qual è? Il limite dell'empatia è che posso sentire e capire che quella persona mi sta dicendo qualcosa che è la sua verità. Ma la sua verità non vuol dire che poi sia la mia verità. E quindi, ecco, magari quella persona mi dice qualcosa in cui crede. Oppure sento che quella persona sente di sapere di aver fatto esperienza di quella cosa. Non se ne esce, non se ne esce. Non si può evitare il cammino della conoscenza, non si può evitare il percorso dell'esperienza. Anche a livello empatico. L'empatia non dovrebbe generare una fiducia cieca nella verità di qualcun altro. L'empatia vorrebbe dire, ah, sai, questo qua mi sta dicendo qualcosa che crede essere vero, che sente essere vero, che sa essere vero, tanto vale intraprendere lo stesso percorso. O comunque un percorso che porti a quello. Che poi, durante il percorso, bisogna sempre stare scetici. E questa cosa va vissuta sia a livello gnosiologico di informazioni, no? A livello proprio della strada, della mappa, che non è mai il territorio, ma anche a livello più fisico. Cioè, una persona magari inizia e ti dice, ah, sai, fai questi esercizi per due settimane e sarai, avrai un corpo nuovo, no? Eh, ma io li devo fare questi esercizi per vedere il cambiamento del mio corpo. Poi li faccio e cosa scopro? Che magari per il mio corpo non vanno bene. Che non vanno bene come per il corpo di qualcun altro. E spesso questo discorso lo si fa per gli esercizi, per la spaccata, no? E si dice, ah, sai, se sei una donna devi fare certi esercizi, se sei un uomo devi fare altri esercizi. Cioè, e l'ho sempre sentito dire, ancora la spaccata non mi esce perfettamente, sono a un buon livello, buon livello per essere uno che fa di tutto tranne che allenarsi nella spaccata, però ecco, era l'esempio pratico per primo, per primo, perché me l'hanno sempre ripetuto, poi tutto il resto no, sempre gli stessi esercizi. Però in realtà poi, quando si fa yoga, semplicemente si vede che certe persone sono brave in certe forme, altre persone sono più brave in altre forme. dall'inizio, ma questo perché? Perché poi il nostro corpo riflette, riflette il nostro stato d'animo interiore e ogni persona ha i blocchi fisici che riflettono il suo stato d'animo interiore e quindi chiaramente il percorso evolutivo, atletico di ognuno sarà differente. E poi questa cosa è vera anche per ogni cammino, diciamo, di cultura personale, perché ci sono persone a cui viene perfettamente, riesce perfettamente a diventare bravi in matematica, poi nella letteratura teatrale del 1300 suono delle chiavi che e la chanson de Roland non sanno manco cos'è. Va bene, miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione, se il video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale e se non l'avete già fatto è cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video, per il resto io come sempre vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!